E apri. Se quell'uomo avesse trovato Don Michele nella mia stanza, chissà quello che sarebbe successo. Anna! Apri! Perché hai chiuso? Anna! Apri! Anna! Vedi, signor Pretori, entra in casa e ignora che hai fotografato. Tecnica moderna. Moderna quando si vuole. Non capisco che c'è di strano. Ebbene, avvocato, date tempo al tempo. Basta, per favore, basta con questa buffonata. Un momento, signora, che buffonato. Qui si stanno esaminando delle prove. Lasciateci esaminare. Quali prove? Le prove, quelle là. Quelle prove, quelle là. Verbalizziamo, signor Pretori. Che verbalizzate, si vede.